di luigi pirandello donna mimma parte prima donna mimma parte voce di lorenzo pieri quando donna mimma col fazzoletto di seta celeste annodato largo sotto il mento passa per le vie del paesello assolate si può credere benissimo che la sua personcina linda ancora dritta e vivace sebbene modestamente raccolta nel lungo manto nero frangiato non proietti ombra sull'acciottolato di queste viuzze qua né sull'astricato della piazza grande di là si può credere benissimo perché agli occhi di tutti i bimbi e anche dei grandi che vedendola passare si sentono pur essi diventare bimbi a un tratto donna mimma reca un'aria con sé per cui subito sopra e attorno a lei tutto diventa come finto di carta il cielo il sole una spera di porporina come la stella del presepio tutto il paesello con quel bel sole d'oro e quel bel cielo azzurro nuovo sulle casette vecchie con quelle sue chiesine dai campaniletti tozzi e le viuzze e la piazza grande con la fontana in mezzo e in fondo la chiesa madre appena ella vi passa diventa subito tutto intorno come un grosso giocattolo di befana di quelli che a pezzo a pezzo si cavano dalla scatolona ovale che odora di colla deliziosamente ogni dadolino e ce ne sono tanti è una casa con le sue finestre e la sua veranda da mettere in fila o in giro per far la strada o la piazza questo dado qui più grosso è la chiesa con la croce e le campane e quest'altro la fontana da metterci attorno questi alberetti che hanno la corona di truccioli verdi verdi e un dischetto sotto per reggersi in piedi miracolo di donna mimma no è il mondo in cui donna mimma vive agli occhi dei piccoli e anche dei grandi che ridiventano subito piccoli appena la vedono passare piccoli per forza perché nessuno può sentirsi grande davanti a donna mimma nessuno questo mondo ella rappresenta ai bimbi quando si mette a parlare con essi e dice loro come ad uno ad uno ella si è andata a comperarli lontano lontano dove dove lontano lontano a palermo a palermo si con una bella lettiga bianca d'avorio portata da due belli cavalli bianchi senza sonagli per vie e vie lunghe di notte al buio senza sonagli perché per non far rumore e al buio si ma c'è pure la luna di notte le stelle ma anche al buio sicuro si fa pur notte quando si cammina e cammina aggiornate per tanta via e poi sempre di notte si arriva al ritorno con quella lettiga e zitti zitti che nessuno veda che nessuno senta perché ma perché il bambinello comperato da poco non può sentire nessun rumore che si spaventerebbe e neppure può vedere in principio la luce del sole comperato come comperato coi denari di papà tanti tanti flavietta ma sì flavietta più di 211 più più con questi riccioletti d'oro con questa boccuccia di fragola perché papà la volle bionda così ricciutella così e con questi occhi grandi d'amore che mi guardano gioia mia non mi credi poche 211 per questi occhi soli vuoi che non lo sappia se t'ho comperata io eppure nini sì certo tutti vi ho comperati io nini un pochino di più perché maschietto i maschietti amore mio costano sempre un pochino di più lavorano poi i maschietti e lavorando guadagnano assai come papà ma sapete che pure papà l'ho comperato io 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 quando era piccolo piccolo certo quando ancora non era niente glielo portato io di notte con la lettiga bianca alla sua mamma sant'anima da palermo sì quanto lui migliaia d'onze migliaia i bimbi la guardano allocchiti le guardano quel fazzoletto bello di seta celeste sempre nuovo sui capelli ancora neri lucidi spartiti in due bande che sulle tempie formano due treccioline che passano sugli orecchi dai cui lobi stirati dal peso pendono due massicci orecchini a lagrimoni le guardano gli occhi un po ovati dalle palpebre esili guarnite di lunghissime ciglia la pallottolina del naso un po venata tra i fori larghi violacei delle nari il mento un po aguzzo su cui s'arricciano metallici alcuni peluzzi ma la vedono come avvolta in un'aria di mistero questa vecchietta pulita che tutte le donne chiamano e anche la loro mamma la comare che quando viene a visita capita sempre che la mamma non sta bene e pochi giorni dopo ecco spunta un altro fratellino o un'altra sorellina che è stata lei ad andarli a comprare lontano lontano a palermo con la lettiga la guardano le toccano pian piano coi ditini curiosi un po esitanti lo scialle la veste ed è sì una vecchietta pulita che non pare diversa dalle altre ma come può andare poi così lontano lontano con quella lettiga e come l'ha lei quest'ufficio nel mondo di comprare i bambini e di portarli i bambini come la befana e i giocattoli ma essi dunque che cosa no non sanno che pensare ma sentono in sé vago un po del mistero che è in quella vecchietta la quale è qua con loro adesso qua che la toccano ma che se ne va poi così lontano a prenderli i bambini e dunque anche loro già a palermo dove dove lei sa ed essi piccoli non sanno benché certo la piccoli piccoli ci sono stati anche loro se ella è andata a comprarli là istintivamente con gli occhi le cercano le mani dove sono le mani lì sotto lo scialle perché non le mostra mai donna mimma le mani già con le mani non li tocca mai li bacia parla con loro gestisce tanto con gli occhi con la bocca con le guance ma dallo scialle le mani non le cava mai per far loro una carezza è strano qualcuno più ardito le domanda non le hai le mani gesù esclama allora donna mimma volgendo uno sguardo di intelligenza alla mamma come per dire e che diavolo questo bambino eccole qua soggiunge poi subito mostrando le due manine coi mezzi guanti di filo come non le ho diavoletto gesù che domande ride ride ricacciandosi le mani sotto e tirandosi con messe lo scialle su su fin sopra il naso per nascondere quelle risatine che dio liberi o signore le viene di farsi la croce ma guarda che cose possono venire in mente a un bambino paiono fatte quelle mani per calcare nello stampo la cera di cui sono formati i bambini gesù che in ogni chiesa si portano sull'altare in un canestrino imbottito di raso celeste la notte di natale sente donna mimma la santità del suo ufficio quanta religione sia nell'atto della nascita e agli occhi dei bimbi lo copre con tutti i veli del pudore e anche parlandone coi grandi non adopera mai una parola che muova o dirà di quei veli e ne parla con gli occhi bassi e il meno che può sa che non è sempre lieto che spesso anzi è così triste il suo ufficio d'accogliere nella vita tanti esserini che piangono appena vi traggono il primo respiro può essere una festa il bimbo che la porta in una casa di signori anche per il bimbo sì benché non sempre neanche lì ma portarli e tanti tanti nelle case dei poveri gliene piange il cuore ma è lei sola ad esercitare da circa 35 anni quest'ufficio nel paesello o per dir meglio era lei sola fino a ieri ora è venuta dal continente una smorfiosetta di vent'anni piemontesa gonna corta gialla giacchetto verde come un maschiotto le mani in tasca sorella ancora nubile di un impiegato di dogana diplomata dalla regia università di torino roba da farsi la croce a due mani signore iddio una ragazza ancora senza mondo mettersi ad una simile professione e bisogna vedere con quale sfacciataggine per miracolo quella sua professione non se la porta scritta in fronte una ragazza una ragazza che di queste cose dio che vergogna e dove siamo donna mimma non se ne sa dar pace volta la faccia si ripara gli occhi con la mano appena la vede passare sculettando per la piazza a testa alta le mani in tasca la piuma bianca ritta al vento sul cappellino di velluto e che strepito fanno quei tacchetti insolenti sull'astricato della piazza passo io passo io non è una donna quella una diavola è non può essere una creatura di dio quella come la tabella ha fatto appendere la tabella col nome e la professione sul portoncino di casa e si chiama elvira come signorina elvira mosti ci sta scritto signorina e che vuol dire diplomata la patente la vergogna patentata dio dio si può credere una cosa simile e chi la chiamerà quella sfacciata ma che esperienza poi che esperienza può avere lei se ancora in nome del padre del figliuolo e dello spirito santo sanno da vedere queste cose ai giorni nostri in un paesello come il nostro in un paesello come il nostro e donna mimma scuote in aria le manine coi mezzi guanti di filo come se si vedesse linguaggiar davanti le fiamme dell'inferno no signora grazie che caffè signora mia acqua un sorso d'acqua mi faccia portare sono tutta sconcertata dice nelle case delle clienti da cui di tanto in tanto si reca a visita o a fare come la dice una facciata per sapere no niente lasciamo fare a dio signora mia ringraziato sia sempre in cielo e in terra se ne è fatta quasi una fissazione non perché tema per sé che le signore le abbiano a fare un torto per quella lì figurarsi se può temere una tal cosa conoscendo che signore sono col timore di dio con l'educazione del paese il rispetto delle cose sante neanche per sogno ma dico dico o vergine maria per la cosa in sé questo scandalo una ragazzaccia dicono che parla come un carabiniere che tutte le parolacce le dice chiare come se fosse una cosa naturale è tanto compresa della mostruosità dello scandalo che non si accorge dell'impaccio afflitto con cui la guardano le signore pare che abbiano da dirle qualche cosa e non ne trovino il coraggio oggi il medico condotto si è voltato di là vedendola passare non l'ha vista ma sì che l'ha vista l'ha vista e si è voltato perché viene a sapere poco dopo che quella svergognata lì è andata a trovarlo a casa col fratello certo per raccomandarsi chissà che moine gli avrà fatto come le sanno fare codeste forestieracce sbandite che nelle grandi città del continente hanno perduto il santo rossore della faccia ed ecco che questo rimbambito di medico il diploma e che c'entra il diploma ah sì di fatti per il diploma ma via che non si sanno queste cose due smorfiette due carezzine e come la paglia pigliano fuoco gli ominacci anche i vecchi adesso senza timor di dio che fa il diploma che c'entra esperienza ci vuole esperienza e ma anche il diploma donna mimma le risponde sospirando il farmacista col quale passando s'allagnata del volta faccia del medico e io che ho diploma forse esclama allora donna mimma sorridendo e giungendo per le punte delle dita le due manine coi mezzi guanti di filo e sono già 35 anni 35 anni che tutti quanti siete qua eppure voi don sarino vi ho portati io con la grazia di dio figliuoli miei che ne ho fatti di viaggi a palermo ecco ecco guardate qua e donna mimma si china a prendere tra quelle due manine che quasi non paiono ma che pure hanno tanta forza un bel bimbone della strada che si è fermato davanti alla farmacia e lo leva alto nel sole anche questo e quanti ne vedete tutti io sono andata a comperarvi tutti io a palermo senza diploma a che serve il diploma il giovane farmacista sorride va bene donna mimma sì voi l'esperienza certo ma e la guarda afflitto e impacciato e neanche lui ha il coraggio di farle intravedere la minaccia che le pende sul capo finché dalla prefettura del capoluogo le arriva una carta con tanto di stemma e di bollo mezza stampata e mezza scritta a mano nella quale ella non sa leggere bene ma indovina che si parla del diploma che non ha e che ai sensi degli articoli tali e tali è ancora dietro a decifrarla quella carta che una guardia la viene ad invitare a nome del sindaco la moglie così presto domanda donna mimma contrariata no al municipio risponde la guardia per una comunicazione donna mimma sacciglia a me per questa carta la guardia si stringe nelle spalle io non so venite e saprete donna mimma va e al municipio trova il sindaco tutto imbarazzato anche lui è stato comperato a palermo da donna mimma e anche due figliuoli donna mimma è andata a comperare per lui a palermo e presto per un terzo dovrebbe mettersi in viaggio con la lettiga ma ecco qua donna mimma vedete un'altra carta anche a noi dalla prefettura per voi sì e non c'è nulla da fare purtroppo vi si interdice l'esercizio della professione a me a voi perché non avete il diploma cara donna mimma la legge ma che legge esclama donna mimma che non ha più una goccia di sangue nelle vene legge nuova non nuova no ma noi qua c'eravate voi sola da tanti anni vi conoscevamo vi volevamo bene avevamo tutta la fiducia in voi e abbiamo perciò lasciato correre ma siamo in contravvenzione anche noi donna mimma queste maledette formalità capite finché c'eravate voi sola ma ora è venuta quella là ha saputo che voi non avete il diploma e visto che qua non è chiamata da nessuno capite ha fatto reclamo alla prefettura e voi non potete più esercitare o dovete andare a palermo davvero questa volta all'università per prendere il diploma anche voi come quella io a palermo alla mia età a 56 anni dopo 35 anni di professione mi fanno questo affronto io il diploma un'intera popolazione ma come c'è bisogno di diploma di saper leggere e scrivere per queste cose io so leggere appena e a palermo io che non mi sono mai mossa di qua io mi ci perdo alla mia età per quella smorfiosa lì che la voglio vedere con tutto il suo diploma vuole competere con me e che hanno da insegnare a me che li fascio e li sfascio tutti quanti i meglio professori dopo 35 anni di professione debbo andare a palermo davvero come per due anni non la finisce più donna mimma un torrente di lagrime neirose disperate tra un precipizio di domande saltanti balzanti il sindaco dolente vorrebbe arrestare quell'impeto un po lo lascia sfogare di nuovo si prova ad arrestarlo due anni passano presto sì è duro certo ma che insegnare no pro forma per avere quel pezzo di carta per non darla vinta a questa ragazzaccia poi accompagnandola fino alla soglia dell'uscio battendole una mano dietro le spalle come un buon figliuolo per esortarla a far buon animo cerca di farla sorridere via via come si smarrirebbe a palermo lei che non passa giorno ci va tre o quattro volte si è tirato lo scialle nero sul fazzoletto celeste donna mimma e le sue manine stringono di sotto quello scialle nero sul volto per nascondere le lagrime bimbi quel fazzoletto di seta celeste la santa poesia della vostra nascita ecco ha preso il lutto se ne va a palermo senza lettiga bianca a studiarme eutica e la sepsi e l'antisepsi l'estremo cefalico l'estremo pelvi podalico così vuole la legge donna mimma piange non se ne può consolare sa leggere appena si smarrirà tra l'irta scienza di quei dotti professori là a palermo dove la tante volte è andata con la poesia della sua lettiga bianca signora mia signora mia un pianto un pianto che spezza il cuore presso ciascuna delle sue clienti da cui va a licenziarsi prima di partire e in ogni casa si china con le piccole mani tremanti o si ora le cava fuori senza più ritegno a carezzar la testina bionda o bruna dei bimbi e lascia tra quei riccioli insieme coi baci cader le lagrime inconsolabilmente vado a palermo vado a palermo e i bimbi sbigottiti la guardano e non comprendono perché pianga tanto questa volta per andare a palermo pensano che forse è una sciagura anche per loro per tutti i bimbi che sono ancora là da comperare dicono le mamme ma noi v'aspetteremo donna mimma le guarda con gli occhi lagrimosi tentenna e il capo come può farsi quest'inganno pietoso lei che sa bene com'è la vita signora mia due anni e se ne parte col cuore spezzato tirandosi lo scialle nero sul fazzoletto celeste e